Buonasera Marcioni. Buonasera Marcioni. Allora? Tutto a posto? S'ha fatto il verbale. Perché con te? Perché ci devo rimanere anch'io tutte le volte? Lo scrivo da te? Perché fai troppi errori. L'ultima cosa che ho battuto il verbale e vanno a mescolare il brigadiere tutti i tasti. Vanno messo le lettere in ordine alfabetico. Le mie ormai li trovate? C'è sempre qualche cosa che va. Sei pronto? Sono pronto. Sei pronto? Vieni, spi di gazzano. Ci siamo? Sì. Meno male. Allora? Allora, ma ascoltami, quanti opi hai fatto? Una. Come una? Va a fare tutte le copie? No, ne faccio una con le le opi. Come le le opi? C'è l'altra e non le hanno portate all'altro gioco? No, ne è scaduta. come scaduta? Sì, sì, ho provato le scaduta e scrivi lì e le opi arriva. E poi ci sono piastrato tutte le dita. No, no, no. Lo conosco io. E poi diano che araminieri... Lo sa te? Ma come lo sa te? E poi ci sono... E diano... E' proprio vero, caro Marcioni, che di araminieri c'è dei due tipi? Quelli, no, e quelli... Ah, finito son detto. Che di araminieri c'è dei due tipi? Quindi, come mettoni? E quindi... Ma dove vai? A una bussola! Ma dove? E' un indietro insù, cioè, ragazzi ci fanno nì scherzi, secondo me, secondo me sono testimoni di Genova che vengono tutte le volte a fare questi scherzi. Allora se sono testimoni quando fatti e tra, e si interrogano, si piglia la deposizione e si manda al GIP. Regolamento di celosie. Senti che lì c'è! Ti stai Marcioni sei proprio furbo una volpe, anzi, ti stai proprio un coiote. No, ti stai proprio un coiote. Davvero, Marcioni? Ma il coiote è più furbo della volpe. Eh, la voglia ti stai più furbo. Eh, 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 forza mia. Allora... Ho portato una marca da bolla da 20 euro. Ma perché balli orsi? Va bene che la serata anni 70 e te fibenai, ma un po' di continuo. Siamo in caserma, dondoli, dondoli. Eh? Ma le morroidi, marescià! Ma le morroidi? Ma cos'è sta divisa? O cos'hai già fatto? Lo provate a lavare da solo, maresciallo, sei un po' di stretta. Vai, levati lì, vai, su. Ma come mai? Aspetta, viva! Ma come mai tutto scancellato e 20 euro? Perché è un regalo, maresciallo. E' un regalo, maresciallo. Allora sei un regalo, maresciallo. Allora sei un regalo. Certo, vai, su, levati lì. Grazie, comandi. Bravo. Allora, scriviamo. Aspetta, aspetta. Aspetta, perché ti sbagliate. Allora ci vuole un altro quarto due. Ma che stai facendo? Adesso stiamo facendo. Il verbale del... Eh no, è il verbale, perché ci sono io. Ragazzi, è benedì. Io alle 10 finisco il turno. e le tre e mezzo sono sempre lì con lui. Ti, 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 ti. Ma un po' meglio. Un scelta. Ho sofferto un po' da piccino, se gli può soffrire. Ha sofferto da piccino. Invece da grande. E sei rivenuto di molto meglio. Eri quasi meglio da piccino. Io ne eri meglio. Via. Ma questo è per parlare della signora. Ah, guarda. Io c'ho tutti che raffimmena. Una fimmena bella, buona. Oh, ma che sei? Siciliano? Io? No. Io sono toscano. Ho fatto 15 giorni di vacanze di Sicilio e ho preso l'accento. Ma che stai facendo? Sodaggi. Mi hai mescolato di nuovo tutti i testi. Ho preso? Ti l'avevo detto? Ti, 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 ti. Gli stai facendo? Cacca! No, 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 mi scresco. Sono messo tutta la mattinata a mettere in ordine alfabetico. Ora così come fai a trovarli il gradino? Che giorni ci ho messo via di mattina al volto? La verità è che ogni tanto noi, che rabbinieri, siamo... Guardate! Ad uscire! E guardate, ragazzi! Allora, ci sei? Macione? Sì! Allora, il giunto 31 luglio 2017... E... Un po' il testo... Ma la... Alla nuca! Ecco! No, come si fa? E l'uno si fa 10,9,9,9,0... Ah! Vabbè! Vabbè! Allora! Si provvedeva... C'è scritto qui... Alla destra del signor Cervi... Andrea Cervi... Cervi! Sì! In seguito, alla segnalazione della moglie... Concetta! Vai, la vedete! Concetta la dà! Guarda! 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 Il signor Cervi... No? E accusava la moglie... Il signor Cervi, no? No! Cervi, sì! No! Cervi, no? Sì! Cervi! Cervi! Cervi, no! Cervi! Cervi, è il signor Cervi... Cervi! 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 quella della Marcini ma poi andava fuori accompagnava di qua ma i giorni abbassati è data di là curdi la luchistia è da via di là vai ma sei sicuro non mi ha visto? non mi ha vinto? altora, la voi chiamasti e la dà! la dà! tre figli prima la dà! insomma la ridà! allora la signora qui getta la ridà! La minacciava con un cortello, c'è scritto qua di CM12 Eh no, eh no, marecciato, da questo verbale precedente risulta che il cortello era di CM15 CM12? CM15 C'è il mezzo, come l'ho? Un ci sa un mezzo? Aspetta, aspetta, ci dovrei avere io un calendarietto di Tascami che mi ha dato ormai il maresciallo dell'aeronautica Quello lì? Quello conosco anch'io? Sì Mamma mia, non si può dire nulla ma Ecco lì, c'ha il bordo millimetrato Oh, è il marcioni Lei è proprio grande, però, meno male No, mi sa che non si può le farme Perché? Si può le farme Perché? E' nel calendario dell'anno scorso Oh bro, se no si è anche il cortello di quello dell'anno scorso Ma allora va bene, allora si Vai, allora C-C-C-C-M C-C-C-C-M Quindi c-C-C-M Qui c-C-C-C-M C-C-C-M C-C-M Cosa vuol dire corsore? Buongiorno colleghi Buongiorno, lavorare, lavorare Lavorare De Triolentini si canne La vedo Ha delle volte saltamente agitato Vi do una tritta Mi raccomando la smiretta Andate canpi in piazza Cerfei di vendolo Bene. Certi semini Semizi mi è venuta a mente che sapevo anche il tedesco, sono ditelo in quattro parole Telefunken, Beckenbauer e quell'altro, ah Merkel e poi diano che noi carabinieri siamo... via via dove andate? a me non so vado a aprire così viene anche noi a me non so